Litigio, Medea, maledetto bastardo, questo è il peggio che io penso a scrivere con la lingua a proposito della tua viltà, sei arrivato da me, sei arrivato odiatissimo dagli dèi e da me e dal genere umano, ma hai fatto bene a venire, io parlando toglierò peso all'anima, tu ascoltando ti affliggerai, io ti salvai, io uccisi il mostro, per te tradì mio padre e i miei familiari, feci uccidere Pelia nel modo più doloroso tra tutti, dai suoi figli, eliminai ogni motivo di paura e dopo aver ricevuto un tale trattamento da me, tu il peggiore tra gli uomini mi hai abbandonato, ti sei preso un nuovo letto, non curante dei figli, se non fossi stato ancora padre, questo tuo desiderio sarebbe stato comprensibile, oh destra mia, mano che spesso hai preso nella tua, oh ginocchia qui, siamo state toccate in vano da un miserabile, ci siamo sbagliate nel fidarci di lui, Gias, mamma, Medea, non so dove voltarmi, forse a casa del padre, ma è la casa che ho abbandonato per venire qui in questa terra, povera me, se dovrò fuggire via, esiliata da questa terra, privata degli amici, sola, con i figli soli, stupendo, bell'onta per uno fresco di matrimonio, i suoi figli e io, io che l'ho salvato, all'avventura come pitocchi in giro, bleh, Nutrice al telefono, è arrivato e stanno litigando, devo andare dentro a vedere, Nutrice lancia dentro un libro sull'educazione dei figli e Giasone lo raccoglie. Grazie mille Federica e grazie per la lettura di questo brano sul litigio tra Medea e Giasone. Devo dire che io ho sempre detto Giasone, però io seguo te. Si può dire in entrambi i modi, possiamo dire. Oggi tra l'altro credo che sia una delle giornate in cui anche questi temi della traduzione e della corretta pronuncia dei nomi emergerà. Stiamo entrando sempre più dentro questo testo, i figli di Medea, siamo al terzo incontro, abbiamo fatto un primo incontro con gli editori, un secondo incontro con Susan Austin che ci ha raccontato le origini del testo e il processo con cui l'ha scritto. Oggi incontriamo invece Laura Cangemi che è già stata con noi la volta scorsa e Federico Diamanti che questo testo invece l'hanno tradotto dallo svedese e dal greco. Io vado a presentare i nostri due ospiti e poi iniziamo questa bella chiacchierata su cosa significa appunto lavorare su un testo scritto in un'altra lingua. Laura Cangemi si è laureata a Milano in lingue e letterature straniere moderne nel 1986, anno in cui si è trasferita a Mantua. Dal 1987 traduce dallo svedese, dall'inglese e sporadicamente dal norvegese. Pluripremiata, collabora con diverse importanti case editrici italiane e si dedica in particolare alla letteratura per ragazzi. Federico Diamanti, classe 1996, laureato in filologia classica presso l'Università di Bologna, laureando in italianistica, allievo della Scuola di Archivistica, Paleografia e Diplomatica dell'Archivio di Stato di Bologna. Entrambi hanno tradotto rispettivamente dallo svedese e dal greco antico e a questo punto Federica io lascio a te la parola per entrare nel vivo di questo incontro sulla traduzione e sulle lingue all'interno di questo testo. Grazie Cira, grazie Laura e Federico. Io sono particolarmente contenta di dedicare un incontro alla traduzione perché nel caso dei testi teatrali, in particolare, i traduttori sono importantissimi. È grazie ai traduttori, è grazie a chi traduce che i testi circolano nel mondo, tra le lingue, anche indipendentemente dall'editoria. In questo caso esiste un libro, il testo è stato tradotto per un libro, ma io per prima, che non conosco lo svedese, ho letto i figli di Medea in traduzioni che circolavano fuori da edizioni, traduzioni francesi e inglesi che in quel caso ancora non erano diventati libri e forse quella inglese non lo è diventato, almeno non la traduzione che ho letto io. In più in questo caso si tratta di un testo molto particolare per come è nato, l'abbiamo visto la volta scorsa, una scrittura collettiva, una scrittura laboratoriale, ma soprattutto particolare perché trattandosi di un adattamento di una tragedia greca euripidea, è un testo che ha consapevolmente scelto di utilizzare un doppio registro linguistico ed è per questo che ha due traduttori. La traduzione italiana dei figli di Medea è l'unica traduzione che ha due traduttori, che insomma è stata fatta questa scelta, è stata fatta insieme a Laura Cangemmi, insieme all'editore, di ritradurre le parti che gli autori svedesi avevano citato direttamente dalla Medea di Euripide. Lascio la parola a Laura, a questo punto a Laura Cangemmi che ci racconterà meglio tutto questo partendo proprio da questo testo che si è trovata tra le mani, un testo particolare insomma anche rispetto ad altri che hai tradotto. Buonasera a tutti, innanzitutto grazie di questo invito, grazie di questa iniziativa diciamo di una serie di incontri su questo libro, questo testo teatrale. Sì sicuramente tradurre questo testo per me è stata un'attività nuova perché io traduco da 30 e passa anni però e sono specializzate in effetti in letteratura per ragazzi, però non mi era mai capitato di tradurre un testo teatrale. Devo dire che è stato molto utile anche per la scelta poi successiva che è stata fatta di questo affiancamento da parte di Federico, è stato molto utile leggere un testo che la stessa Suzanne Husten aveva scritto all'epoca proprio nel 75 quando aveva scritto insieme a Perdisander ma anche insieme a dei bambini, degli elementari con cui era stato costruito il testo, appunto questa pièce. Il testo che si intitola Una tragedia infantile spiega proprio come è stato costruito questo testo teatrale in collaborazione con le classi dei bambini e spiega molto bene anche questa scelta di mantenere, proprio per chiarire la differenza tra i due piani, quella dei bambini e il piano degli adulti, scegliere appunto di usare come linguaggio degli adulti, quindi incomprensibile spesso e volentieri ai bambini, il testo della tragedia di Euripide. Quindi sia quello che Susanne e Per avevano chiamato il canto, che era poi il coro classico diciamo della tragedia classica, sia la maggior parte delle battute di Medea e Giasone sono appunto esattamente quelle di Euripide, mentre il linguaggio dei bambini è il linguaggio moderno, moderno diciamo degli anni 70 in Svezia, ecco però comunque moderno di sicuro non antico e c'è una figura che è un po' intermedia che è quella della nutrice, che tra l'altro nello specifico è un uomo, un maschio, non una donna e questa sua funzione anche di mediatrice, che forse potrebbe essere quella anche di traduttrice, è molto chiara già nel primo canto, nella prima comparsa del canto, perché lì si inframmezzano versi di Euripide con una immaginaria traduzione da parte di nutrice che in quel caso spiega in un certo senso al pubblico quello che sta dicendo il canto. E quindi già in queste primissime battute della tragedia, perché in effetti si può parlare di tragedia anche se per bambini, si capisce che ci sono questi due piani diversi. Poi nella prima messa in scena addirittura di questa pièce c'erano proprio a livello di palco due livelli diversi, quello sotto era quello dei bambini, quello sopra era quello degli adulti, quindi questa distinzione era ancora più marcata. però ecco è un escamotage molto particolare perché in un certo senso gli adulti diventano in questa tragedia un po' quello che era nella tragedia greca gli dei capricciosi, gli dei incomprensibili agli umani, in questo stesso, diciamo la stessa cesura c'è in questa tragedia fra i bambini e il mondo degli adulti. Un po' ecco questa era l'idea alla base di questa scelta che appunto viene spiegata molto bene in questo testo. Poi per quanto mi riguarda ovviamente per me è stata la prima volta che devo affrontare un testo in svedese però con delle pace in cui era necessaria, indispensabile direi la conoscenza del greco antico comunque anche solo per affrontarlo. Poi riflettendo in realtà non è stata la primissima volta perché quando io ho fatto la mia tesi di laurea, ancora appunto nel 1986, avevo scelto come autore un autore romantico, Esaias Tegner che era professore all'università di greco antico e si era ispirato tantissimo più che altro all'epica omerica diciamo per la sua opera principale che era quella che esaminavo nella tesi. Quindi in un certo senso è stato anche un ritorno alle origini per me anche molto piacevole perché comunque la mia passione per il greco antico è rimasta negli anni nonostante sia passato tanto tempo da quando ho finito il dicio classico. Direi che posso passare la parola a Federico adesso o a Federica per una domanda. Prima di passare la parola a Federico mi piaceva che tu raccontassi come hai scovato le citazioni, quindi come hai lavorato prima di passare il testo a Federico, no? Perché è andata così. Sì, sì, certo, è andata così. C'è da dire che io lavoravo fra l'altro su un testo che non è quello originario del 75 ma quello del 2003 perché era stata rimessa diciamo in scena nel 2003 questa questa pièce e quindi le parti euripide diciamo erano un po' una mescolanza tra due diverse traduzioni svedesi che io fra l'altro non avevo a disposizione se non per qualche testo online, qualche parte online quindi è stato abbastanza difficile intanto individuare quali erano effettivamente le citazioni dirette da Euripide. Una volta individuate dovevo anche andare a cercarle ovviamente sulle traduzioni italiane. Allora insieme a Federica Federico avevamo scelto come testi di base la traduzione di Esther Cerbo che avevo nell'edizione Burr e diciamo anche come supporto la traduzione di Maria Grazia Ciani che avevo nella versione di Marsilio. Questo perché appunto essendosi basato lo svedese su due diverse traduzioni, traduzioni certe volte non molto fedeli al greco come ci siamo poi resi conto nel corso del lavoro. Serviva ovviamente un'aderenza al testo, alla resa svedese ma anche un rigore filologico nel rendere la traduzione di Euripide. Per cui ecco per me è stato un lavoro abbastanza lungo perché dovevo andare a ricercare sull'originale e poi ovviamente segnavo la traduzione di Esther Cerbo segnalando dove si discostava particolarmente dallo svedese e poi segnavo i versi dell'originale. Così diciamo da facilitare un minimo il lavoro di Federico che se no avrebbe dovuto cercare di risalire da una mia traduzione assolutamente non attendibile dallo svedese. Ecco quindi c'è stato questo primo passaggio però direi che più o meno ce la siamo cavata in questo modo. Sì e poi appunto c'è stato il scegliere un traduttore giovane. Ecco questo per me è importante da dire che fosse diciamo in qualche modo anche un po' più vicino, che fosse molto bravo ma che fosse anche in qualche modo più vicino all'età del pubblico di questa pièce. Quindi un po' più vicino alla letteratura dei ragazzi. Ecco anche questo era un po' l'esperimento che abbiamo voluto fare. Federico. Buonasera a tutti e a tutte e innanzitutto grazie. Grazie a Federica che ci ospita questa sera e a questo ampio progetto di cui siamo già al terzo capitolo per lo spazio e per l'opportunità. In particolare poi a Federica grazie speciale perché ha voluto coordinando con grande pazienza perlomeno nei miei confronti questo lavoro che lo facessimo nei termini che sono già stati ampiamente spiegati. Grazie anche perché poterne parlare secondo me per certi aspetti evidenzia nuovamente quanto di artigianale ci sia nell'opera di traduzione. Io penso che questa sera verremo già ascoltando le prime battute più e più volte a ritornare su alcuni punti che è bello vedere come poi a distanza di mesi il traduttore si trova di fronte, perlomeno questa è la mia personale esperienza, e sono stimoli di ulteriori riflessioni, magari di auspicabili modifiche o di nuovi pensieri sul testo che si è tradotto. Grazie anche perché, e questa è una nota personalissima che però ci tengo a fare all'inizio, questo per me è stato l'ultimo lavoro tra virgolette del mondo di prima, nel senso che noi abbiamo chiuso questo lavoro mi pare a gennaio-febbraio, io mi ricordo ho lavorato con molti scambi nel mese di dicembre con Laura e Federica, e effettivamente nei mesi successivi è cambiato il mondo, e quindi per me tornare anche su questi temi significa tornarci forti o deboli di un'esperienza che penso abbia influito sulle nostre vite. Io nel parlarvi del testo che mi sono trovato tra le mani, diciamo così, devo ritornare sul grande lavoro che ha fatto Laura Cangemi nel donarmi, diciamo così, un testo in cui gli originali euripidei tradotti in svedese e riportati in seno all'effettiva collocazione all'interno della tragedia di Euripide, è un lavoro che era già stato fatto. Un lavoro sul quale si è innestata una riflessione da parte mia, che devo dire è sempre stata dialogica, su il riuso dei versi euripidei all'interno di questo testo. Un riuso che non è affatto scontato, non è affatto lineare, perché Laura si è trovata in più occasioni di fronte a dei versi spezzati, a delle battute che si susseguivano ma erano tratte da episodi o da momenti dell'opera euripidea differenti e di fronte anche a una certa libertà nella traduzione, lei ci ha detto perlomeno, dal greco allo svedese. Ma penso che fosse questa una sfida da affrontare così come l'abbiamo affrontata proprio perché, e in questo penso che la collocazione culturale dell'opera che abbiamo concorso a pubblicare sia importante, in questo paese per lo meno per come l'educazione scolastica senza feticismi tra virgolette nei confronti del liceo classico ma penso vada tenuto presente, l'immaginario tra virgolette classico anche tramite le scuole, pensiamo anche solo alle scuole medie, al fatto che si faccia epica per esempio alle scuole medie, sia molto molto importante. Fosse importante aprire una riflessione sul testo proprio greco e sul riutilizzo e scegliere tra le tante traduzioni di ri-approntare una traduzione. Il tema non è però stato soltanto linguistico, non è stato soltanto linguistico perché, e questo lo dobbiamo di nuovo, un altro regalo che ci ha fatto Laura Cangemi che ha tradotto un pezzo che gli autori scrissero a beneficio di noi traduttori perché raccontavano un po' la storia delle scelte strutturali e linguistiche fatte intorno a Euripide, intorno al loro riadattamento, vi è in primo luogo a partire da questo articolo e poi l'abbiamo notato nel tradurre, un'assonanza strutturale tra la tragedia euripidea e la nostra opera. Un'assonanza strutturale che parte secondo me da una considerazione di metodo che io ci terrei a sottolinearvi, perché gli autori, nel 75, insomma si chiesero, si fecero una domanda che secondo me è importante farsi ogni volta che si ha a che fare, a che vedere con qualcosa di classico che viene riposto diciamo così in una situazione culturale diversa, ovvero che cos'è elicito utilizzabile per noi oggi della medea di Euripide? E a partire da questa domanda, collocandola in una riflessione che Susan Austin ha spiegato in modo molto brillante e interessantissimo nel secondo incontro di qualche settimana fa, gli autori hanno fatto una considerazione di metodo che secondo me rimane molto valida e molto utile per chiunque volesse porsi di fronte a un classico. Loro si sono chiesti, anche se l'icito può sembrare scontato, come immergersi in profondità, li sto citando, in quello che dobbiamo sapere e solo dopo, quindi solo dopo un processo di lettura profonda dell'opera Euripidea, decidere a che cosa rinunciare e su che cosa basarci. Questo dicono si è dimostrato un buon metodo per far germogliare delle idee e quindi l'analisi scena dopo scena della struttura dei personaggi, della tragedia e della rilevanza che potrebbero avere è stata la loro bussola nello scrivere e nel riadattare Euripide in questa pièce svedese. Un fatto che a noi ha imposto, perlomeno a me ha imposto, una riflessione che da un lato fosse per l'appunto sulla struttura della tragedia e su come essa sia stata riadoperata all'interno dei figli di Medea e in secondo luogo, come già l'intervento di Laura Cangemi ha sottolineato, sulla lingua da adoperare nel tradurre. Con un triplo livello, come potete spero vedere e leggere dal volume e spero ascoltare e vedere in teatro anche quando si potrà. Un livello che è il livello evidentemente dello svedese in cui quest'opera è stata scritta, un livello quello del greco che si è innestato in questa tragedia andando a rappresentare un linguaggio diverso, altro rispetto a quello dei bambini. Spesso, e su questo abbiamo concordato, lato incomprensibile ai bambini e in terzo luogo l'italiano con cui rendere tutto ciò, quindi un triplo lavoro molto complesso che però abbiamo fatto, ripeto, sempre dialogando. Rubo gli ultimi minuti di questo primo intervento che capisco possa sembrare molto teorico e molto astratto ma spero nel secondo poi di leggere e di far comprendere anche meglio quello che abbiamo scelto. Punto numero uno, dal lato strutturale secondo me è stato molto importante evidenziare, e cercherò di leggere questo, come la pièce di Austin e Lisander ragioni e rifletta in modo interessantissimo sui luoghi della tragedia. Voi sapete che nel teatro classico, insomma, è noto a chi ne ha un po' di conoscenza, ma se non è noto penso che la nostra missione, tra virgolette, la missione di chi studia le cose classiche sia anche spiegarlo a tutti in termini comprensibili, meno filologici possibili. Il luogo chiuso è un luogo altro rispetto alla rappresentazione. Ciò che avviene nel luogo chiuso è qualcosa che viene raccontato da un messaggero, da un personaggio e non si vede nel teatro. Austin e Lisander pongono al centro della tragedia la cameretta dei bambini. Secondo me questa è una cosa molto interessante, sulla quale abbiamo riflettuto perché nella camera, questo ce lo dirà di sicuro benissimo Laura Cangemi, dalla camera partono anche dei nuovi linguaggi, degli universi alternativi di fuga rispetto alla situazione di crisi familiare. Il secondo è un punto naturalmente sulla lingua, sul quale non mi dilungo perché ne parleremo poi citando i pezzi singoli. È un ruolo importantissimo che ha la nutrice in questo senso come traduttrice, come mediatrice, come mediatore, perché poi è un uomo, dei diversi linguaggi. La scelta di rendere il greco come linguaggio degli adulti, anche rischiando di rendere poco comprensibili ai bambini la scelta linguistica. E il terzo, penso sia il tema generazionale, perché io penso che questa è una tragedia che tratta di un divorzio tragicamente concluso. Penso che quello che viene messo in luce dagli autori e che è valido nel 75, come penso sia valido oggi, è quanto alcune situazioni familiari siano connotate da una cifra di incomprensibilità da parte dei bambini, che loro malgrado ne sono protagonisti passivi. E quindi alcune scelte nella lingua, penso alla parola crisi in particolare, che si usa, crisi familiare, crisi coniugale, parole del genere che magari i bambini origliano, orecchiano dai discorsi degli adulti, siano punti di rottura profondi in cui il greco ha aiutato, la traduzione del greco secondo me ha aiutato, proprio per metterli in evidenza precisa, di un rapporto che evidentemente si incrina tra moglie e marito all'interno della famiglia, ma si incrina anche soprattutto tra bambini e adulti. Il tema dunque dell'incomprensibilità del linguaggio dei grandi, della difficoltà nel comprendere, assimilare, fare proprio il linguaggio del divorzio e della separazione, si pensi anche, visto che so che è una questione di cui discuterete in un prossimo incontro che ascolterò molto volentieri, al linguaggio giuridico anche, che ogni tanto i bambini sono costretti a sopportare, a origliare. È un invito, questo, che noi abbiamo cercato di fare traducendo, alla riflessione sulla discrasia e sulla impossibilità comunicativa che va attraverso la lingua e che trova, che viaggia attraverso la lingua e che trova evidentemente sfogo nei bambini che sono i protagonisti, loro malgrado di questa tragedia, anche nella creazione, si pensi all'utilizzo anche della filastrocca che c'è ad un certo punto, di universi e linguaggi alternativi per sfuggire dalla situazione di crisi. Io, con queste considerazioni teoriche, direi che concludo, spero di non aver rubato troppo tempo e sono contento di leggere dopo un po' di cose, anche per far comprendere come questa cosa sia avvenuta effettivamente. Io voglio fare i complimenti a Federico perché devo dire che il suo grado di approfondimento della tragedia è veramente straordinario, non solo della tragedia, del testo di Susan Austin è veramente straordinario e mentre lo ascoltavo con grande interesse pensavo anche allo studio che ha comportato questa traduzione e al fatto che, come diceva lui, uno studio fatto nel mondo di prima, in realtà oggi secondo me diventa ancora più necessario perché è un momento in cui gli spettacoli possono girare poco, quindi chissà per quanto tempo ancora ci sarà poca possibilità per gli spettacoli di andare in giro per il mondo, probabilmente far girare i testi e far girare questa capacità anche di entrare nel testo in questo modo, in qualche modo credo che possa essere un modo per prepararsi a rivedere il teatro nel mondo di dopo e quindi devo dire che questo lavoro continua veramente ad aprire delle finestre per il mondo del teatro che sono straordinarie perché si mette in relazione con dei mondi che di solito fanno fatica a entrare almeno dentro il mondo del teatro ragazzi perché si tende anche a semplificare un pochino le questioni legate al testo. Io volevo fare, prima di passare alla seconda domanda sul lavoro, volevo però fare una domanda a Laura rispetto a quello che diceva prima. Sia a Susan un'altra volta, ma anche tu l'hai ripetuto oggi, c'è una parte del testo originale svedese che era stato scritto insieme ai bambini della scuola elementare. Allora, mi piacerebbe capire quanto dei testi originali scritti dai bambini sia rimasto nel testo della Osten e quanto poi anche nella traduzione, cioè come questo testo è diventato testo teatrale, tutto quello che è stato scritto dai bambini degli elementari. Non ti sentiamo? Devi aprire il microfono. Scusate, l'avevo acceso ma si è rispentro. In realtà è difficile dare una risposta precisa a questa domanda perché tutto il testo è disseminato di proposte da parte dei bambini. Sicuramente c'è il prologo che è il racconto dell'antefatto, perché il lavoro che avevano fatto Susanne e Per con i bambini era stato raccontare prima tutta la storia, tutto il mito diciamo, e vedere le reazioni dei bambini. E osservando le reazioni dei bambini, scegliere cosa togliere, cosa mantenere, soprattutto perché erano rimasti abbastanza sorpresi dall'assenza di reazioni, per esempio in certe scene molto trucci, difficili, dure, e invece dalle reazioni molto più importanti in altre scene che loro, in altre fasi del racconto, che sembravano meno tragiche proprio all'orecchio di un bambino. Quello che avevano veramente osservato, soprattutto in una classe dove Susanne stessa ha ricordato anche l'altra volta, c'era il 60% di figli di divorziati, quello che notavano era la reazione molto forte al momento del litigio, della rottura fra gli adulti. Quindi hanno evidenziato questi momenti, infatti c'è la fase proprio del litigio che è uno dei momenti più tragici proprio di tutta la pièce. Ma soprattutto si sono resi conto di questa tendenza dei bambini a voler scappare, scappare da una situazione che non riuscivano appunto a gestire, ma nello stesso tempo questa fuga era sempre, aveva due aspetti molto particolari, uno che nella fuga tendevano a portarsi dietro tutta la loro casa, ma anche i genitori, e il secondo aspetto di questa fuga ricorrente era il ritorno, cioè una fuga che prevede sempre anche il momento del ritorno, quindi non è una vera fuga. Infatti ci sono più fughe all'interno dell'APS e non sono tutte fughe dello stesso tipo, anche se una è una vera propria fuga pianificata, con tanto di cosa ci portiamo dietro, questo serve, questo non serve, questo pesa troppo, lasciamo giù gli animali di pezza, non li lasciamo giù, eccetera. Ci sono anche le fughe che sono fughe volendo più tragiche, nel momento in cui per esempio i bambini vogliono suicidarsi addirittura, perché la loro morte può essere, come dire, intanto l'espiazione di una colpa immaginata, perché tante volte i bambini pensano che la colpa del divorzio dei genitori sia loro, e dall'altra parte è anche una punizione per i genitori, quindi ci sono fughe su diversi piani di tipo diverso. Penso che sia stato soprattutto questo tipo di reazioni che loro hanno riscontrato i bambini a essere assorbite poi nel testo finale. È importante secondo me però anche ricordarsi che Susanna Austin e Perlisander operavano in una Svezia che aveva avuto forti, aveva ancora, ma diciamo era stata segnata dall'avvento di Astrid Lindgren che ha cambiato completamente la letteratura per ragazzi e direi la cultura in generale in Svezia, perché Astrid Lindgren è stata la prima a mettere veramente al centro i bambini ed è stato il suo, è stato un ribaltamento veramente culturale, talmente importante che chiunque sia venuto dopo, diciamo, nella cultura nordica, oserei dire, non solo svedese, in particolare la cultura rivolta ai bambini, ma in generale la cultura nordica, non può più fare a meno di questa prospettiva completamente cambiata. Quindi il fatto che, a differenza della tragedia dei Euripide dove i bambini non compaiono mai, si sentono solo le voci dalla casa, all'interno della casa, qui invece il centro della tragedia è loro. E questo è il messaggio forte che volevano dare secondo me i due registi. Ed è appunto un messaggio forte che fa parte di un modo di vedere il bambino che veramente è cambiato completamente in Svezia dopo Astrid Lindgren. Bisogna ricordarsi che Astrid Lindgren non solo ha scritto Pippi Caccelunghi, che è l'unico libro per cui è nota in Italia, ha scritto una serie lunghissima di libri molto belli, tra alcuni molto più belli di Pippi, secondo me, perché sono un'appassionata di altri suoi libri, che ho in parte anche tradotto, ma soprattutto lei ha avuto un'influenza anche politica notevole in Svezia, ma la legislazione per esempio che riguarda la protezione dei diritti dell'infanzia in Svezia e non solo in Svezia è stata veramente influenzata in modo marcato dalla sua personalità e dal suo modo di ragionare, dal suo pensiero che appunto aveva questo di importante, il fatto di mettere al centro il bambino e di vedere la realtà dalla prospettiva del bambino. Senza questo ribaltamento di prospettiva, penso che non ci sarebbe stato neanche questo testo teatrale, ecco, è un dato secondo me molto molto importante da considerare. A proposito di questo, Laura, i nomi dei bambini su cui c'è stato un lavoro iniziale, è una... dici qualcosa su questo? I nomi... Allora, è stata una del... sì, nell'originale si chiamavano Lil Medea e Lil Yason e è stato difficile perché Lil è un prefisso di una sola sillaba che si usa molto ancora adesso in Svezia, adesso forse è un pochino più in disuso, però una volta si usava proprio per dire il figlio di qualcuno e si usava attaccandolo al cognome, anzi, come prefisso al cognome per dire il figlio di... ma non come patronimico, semplicemente è come se uno se il... non so, il canjimi piccolo, ecco, un cognome con... e questo soprattutto negli ambienti piccoli, nei paesini, eccetera, è ancora un pochino usato. Questo fatto che fosse solo un prefisso di una sillaba mi ha messo in difficoltà perché in italiano ovviamente Lil vuol dire lilla, vuol dire semplicemente piccolo. Mettere piccola Medea e piccolo jazzone sarebbe stato molto pesante, direi inutilizzabile in tutti i dialoghi, soprattutto fra i bambini. Quindi quello l'ho scartato fin dall'inizio come soluzione. La versione inglese ovviamente aveva Junior, che era molto più semplice, però anche quello, avremmo anche potuto scegliere quella come soluzione, però anche quella nei dialoghi, in particolare fra i due bambini, risultava... a parte troppo americana, anche se Junior è una parola latina ovviamente, ma era impraticabile pure quella. Allora abbiamo pensato al prefisso mini, che poteva anche funzionare, per cui uno sarebbe stato mini Medea e l'altro mini Giasone, però comunque, come vedete, viene qualcosa di molto lungo anche solo da pronunciare, perché poi bisogna pensare anche che questo è un testo teatrale scritto, ma è un testo teatrale che si spera verrà magari portato in scena quando si potrà di nuovo andare in scena. C'era la soluzione semplice del vezzeggiativo, Medeina e Giasonino, ma questo risultava troppo mieloso, troppo, decisamente troppo vezzeggiativo, quindi ne abbiamo dovuto escludere. Mea mi è venuto in mente perché poteva essere, era veramente una specie di contrazione di Medea, si eliminava una sillaba semplicemente, era un nomignolo che aveva la figlia di una mia amica che si chiamava in realtà Maddalena, però mi sembrava che potesse funzionare, quindi su quello ci sono state meno esitazioni, direi che anche con Federica siamo arrivati abbastanza rapidamente ad accettarlo. Sul piccolo Giasone o Giasone, insomma, era un po' più difficile, avevamo pensato anche a una cosa tipo Sonny, che però faceva un po' troppo il padrino, e poi a qualcosa di più. Ecco, forse questa sarebbe stata una soluzione fattibile, era un Gianji, per esempio, che poteva essere una soluzione nel solco della modernità dei due bambini, che doveva appunto contrapporsi al livello classico degli adulti. Alla fine, insomma, siamo arrivati alla scelta di Gias, semplicemente che è un po' un calco della soluzione scelta per mea, al posto di Medea, insomma, alla fine penso che più o meno funzioni. Certo non è stata una scelta facile, e quella dei nomi spesso è una scelta problematica, insomma, quando non si possono mantenere come nell'originale. Sicuramente lasciarli nell'originale svedese Lille non avrebbe avuto senso, perché nessuno che non sapesse lo svedese ovviamente avrebbe capito cosa voleva dire, insomma, o non era comunque immediata. Se no bisognava ricorrere a una nota iniziale, ma insomma se avrebbe stato un po' farraginosa come scelta. Federica, non so se tu vuoi che io vada davanti a parlare di qualche altra scelta di base che abbiamo dovuto parlare durante l'anno. Se continuiamo con qualche esempio, sia Laura che Federico. Esatto, esatto, infatti era quello che volevo chiedere io, se possiamo leggere alcuni esempi. Sarebbe bello anche ascoltare un pochino l'originale, se avete voglia, no? E raccontarci come... Vuoi fare tu qualcosa Federico? Vuoi dare tu qualche esempio? Ah, volentieri, sì sì sì, io sono molto contento di poter leggere, nel senso che dal punto di vista teorico penso che ci sia anche un po' di difficoltà nello spiegarsi, invece magari la lettura può aiutare molto. Io avevo selezionato quattro esempi, magari ne faccio due adesso molto velocemente e poi ci framezziamo e ne faccio altri due. Il primo che secondo me rispecchia bene sia le scelte strutturali, sia il fatto che dentro a queste scelte strutturali gli autori si siano mossi con determinata autonomia, è proprio quello del canto iniziale, no? Che in realtà muove dal coro della Medea che, detta in modo molto semplice, come giusto che sia, secondo me, è fatto fondamentale per il teatro greco e penso che su questo ci soffermeremo molto anche nei prossimi incontri con la professoressa Fornaro, che è una specialista del riuso e delle riscritture delle tragedie, che in questo caso ci introduce dopo il prologo, che è di nuovo, per quanto sia la parte che restituisce il lavoro fatto con i bambini sul mito proprio, è una parte che c'è anche nel teatro classico, c'è nei manoscritti, c'è insomma, c'è dappertutto, si parte con il canto, no? O coro, ed è proprio una citazione, e questi sono i primi due esempi che vorrei fare, diretta di Euripide, come abbiamo visto, non del primo coro, non del primo stasimo, quanto piuttosto dei versi, se qualcuno avesse sotto per caso la Medea, dal 411 in poi, che però è il coro effettivamente iniziale, no? Lo stasimo iniziale, perché ci restituisce una diunaton, no? Una descrizione di un qualcosa di assolutamente impossibile, impensabile e incredibile per, in questo caso, per i bambini, no? Il racconto del divorzio. E qui abbiamo, evidentemente, leggendo, scelto, oltre che una fedeltà al testo greco, anche una certa, un certo linguaggio che si mantenesse molto sostenuto e molto anche, c'è stata, secondo me, cioè perlomeno in me una riflessione sulla pesantezza, no? Che restituisse un po' la pesantezza dei discorsi che si fanno intorno al divorzio, intorno alle crisi coniugali, che gli adulti fanno intorno a queste cose. E allora abbiamo scelto di tradurre proprio lo stasimo, dai versi 411, in poi così. Inverse scorrono le acque dei sacri fiumi, e giustizia e ogni cosa ancora sono stravolte. Per gli uomini consigli ingannevoli, mai più salda la fede negli dèi. Sono pochi versi che però ci introducono questa rottura linguistica, secondo me, in modo molto chiaro, e ci dicono che, che cosa? Sostanzialmente che sta succedendo un qualcosa di assolutamente impensabile, e ce lo dicono, io qui ho provato, prendo la mia idea, diciamo, euripidea, anche a renderli, no? Con una certa fedeltà alla alta levatura, no? Della lingua greca in cui è scritta, no? La scelta di mettere in verse come prima parola, no? In realtà proprio del canto, è una scelta che risponde al greco, direttamente, no? Con il preverbo ano legato a corusi, no? Vanno in modo inverso, no? Diciamo dalla foce alla fonte, da sotto a sopra, no? I fiumi, cosa che è impensabile, no? Per l'immaginario, e soprattutto, no? La scelta di utilizzare il verbo italiano stravolte per rendere strefetai, no? Un verbo da cui la nostra catastrofe, no? Qualcosa di assolutamente impensabile e che stravolge per l'appunto la vita, in questo caso dei bambini. Consigli ingannevoli è stata una cosa su cui ci siamo soffermati molto, perché c'è, torna, no? In tutta la pièce, quest'idea dell'inganno, della frode, della mancanza di fiducia, no? Tra le persone, e poi mai più salda, no? La fede negli dèi. Quindi una scelta, in primo luogo, di grande altezza, tra virgolette, no? Linguistica, di pesantezza, soprattutto, ho cercato di renderla così. Perché poi c'è quello di cui parlava Laura all'inizio, il mio secondo esempio, no? La traduzione interlineare, tra virgolette, della nutrice per i bambini, sempre di una descrizione della crisi, no? Familiare. Ogni cosa è in conflitto ora e in crisi rapporti più cari, e la nutrice traduce. Non vanno più d'accordo. I bambini capiscono, vedono, sanno questa cosa. Giasone o Giasone, io sono contrario ai purismi sugli accenti di Edipo, Edipo, Giasone o Giasone, ha abbandonato i suoi figli e la mia padrona, traduce di nuovo la nutrice, se n'è andato di casa. Ora giace in un letto regale, di nuovo, molto a giacere in un letto regale, se la spassa con Glauce, insomma, traduzione della nutrice. Si è sposato con la figlia di Creonte, il re di questa terra, e questo lo avevate già capito, no? Anche con ironia la nutrice traduce. Medea immobile di digiuna, traduzione, ha smesso di mangiare, abbandona il corpo ai dolori. Qui c'è stata una difficoltà sul greco perché hanno troncato, no? In due versi separati, un verso che in realtà in greco è unico, e si scioglie in lacrime per tutto il tempo. E qui secondo me c'è una cosa bellissima che dico velocissimamente, perché la nutrice traduce tipo pupazzo di neve, e secondo me è molto bello, anche per noi che leggiamo dall'Italia, no? Questa pièce, vedere come l'immaginario ha anche di paese in paese cambi, no? Un pupazzo di neve per noi, insomma, sì, ci sono quando nevica, però non è una cosa che... una cosa a cui paragoneremo medea immobile che giace, eccetera, eccetera, invece evidentemente per uno svedese, ma Laura forse ci dirà meglio, è diverso. Alle volte si conclude torcendo il collo bianchissimo, con quest'idea della chiarezza, no? Del collo bianco che oltre a rimandare, no? Al tema del pallore della pelle, no? Che è un sintomo tra l'altro simbolo di nobiltà nel mondo classico, ci rimanda alla neve, no? Del pupazzo di neve. È un fatto interessante perché qui c'è stato un dialogo proprio tra Laura e me, lo svedese sul greco, perché leggo come se fosse una con umlaut in tedesco, quindi smelterbord, poi dimmi tu Laura, che significa proprio si scioglie, c'era in svedese, e il greco abbiamo cercato anche, torcendo un po' il dettato, di rirenderlo, no? Per l'appunto con l'idea dello scioglimento, si scioglie in lacrime per tutto il tempo. Quindi c'è stata questa riflessione. Poi magari chiudo su altri due esempi, ma passo la parola. Sì, se posso, intanto era perfetto, questo era stato proprio il nostro dialogo e penso che sia stato importante arrivare appunto a usare il verbo giusto che si potesse applicare al pupazzo di neve. Visto che stiamo parlando del ruolo della nutrice o di nutrice, perché alla fine l'articolo femminile l'abbiamo un po' eliminato, questo è stato un altro, un altro, diciamo, dubbio più che problema di traduzione, perché effettivamente la scelta, e questo lo sappiamo sempre dal testo di accompagnamento che ci ha fatto avere Susanne, la scelta di avere una nutrice maschio derivava un po' da tutta l'impostazione della costruzione di questa pièce, perché Susanne stessa dice che tutti gli attori nella fase di elaborazione del testo svolgevano, impersonavano tutti i ruoli diversi, tutte le parti diverse, maschi e femmine, e quindi prima di arrivare a un'assegnazione delle parti, c'è stato tutto un lavoro precedente, e quella dell'assegnazione delle parti in pratica è avvenuta solo al momento di iniziare le prove vere e proprie. Evidentemente alla fine la scelta è stata quella che questo Hanson, che era proprio il cognome dell'attore che nel 75 è andato in scena come nutrice, la scelta è stata di dare il cognome dell'attore al personaggio. Allora qui si poneva il problema intanto di far capire che era un maschio e non una femmina. Poi si capisce ovviamente se fosse scelta sarebbe più facile, in un libro bisogna far capire che comunque è un maschio. Mettere un cognome non avrebbe risolto la questione in italiano, abbiamo anche voluto controllare insieme a Federica che scelta era stata fatta nel testo inglese, gli inglesi avevano messo un John molto generico, allora io ho pensato visto che anche come suono somiglia un po' ad Hanson, possiamo mettere un Antonio, così in qualsiasi anonimo Antonio. Poi questo Antonio al telefono parlerà con la fidanzata o comunque l'aspirante fidanzata, Anne eccetera, quindi comunque è abbastanza evidente qual è il suo ruolo, però comunque non è stato facilissimo insomma prendere una decisione. Su alcune cose avevamo anche il dubbio se chiedere o non chiedere agli autori, poi ovviamente è il testo stesso che parla, quindi a un certo punto le decisioni si possono prendere anche in maniera autonoma. Un altro aspetto non facilissimo da decidere, diciamo un termine più che altro, visto che prima anche Federico parlava di termini giuridici. In svedese si usa un solo verbo sia per indicare la separazione che il divorzio, probabilmente anche perché nella legislazione svedese il divorzio è abbastanza immediato, non è come da noi, vabbè adesso si sono velocizzate le cose anche da noi, ma nel 75, che peraltro era appena entrata in vigore la legge su divorzio in Italia, c'erano anni di separazione prima di arrivare al divorzio, quindi in italiano il termine separazione è decisamente diverso da quello divorzio. C'è una scena in cui Jazz chiede a sua sorella cosa vuol dire separarsi, a sua sorella perché nessun altro lo ascolta in realtà, allora ovviamente in italiano avrebbe avuto più senso mettere che lui chiede cosa vuol dire divorziare, che è una parola molto più difficile, però in realtà quando la sorella, quando Mea risponde, fa un esempio che con divorziare non avrebbe funzionato, perché Mea praticamente dice a Jazz che è come quando si sputa, ci si separa dal proprio sputo, che fra l'altro è una spiegazione anche abbastanza originale e divertente, e quindi ovviamente non avrei potuto mettere che si divorzia dal proprio sputo, quindi la scelta alla fine è stata di usare separazione come termine diciamo per tutta la tragedia, ma direi che funziona comunque perché in Italia appunto prima di arrivare al divorzio si deve comunque parlare di separazione e in fondo Medea e Jazz in questa tragedia, in questa, noi in quella di Euripide sono ancora nella fase della separazione iniziale, ecco perché non se ne è neanche andato da casa. Prima anche Federico accennava ad alcune filastrocche che hanno anche un po' una funzione in un certo senso magica, perché nella mente dei bambini certe volte il fatto di ripetere come mantra certe rime, certe formule, che poi voglio dire nella tradizione greca la formula, anche solo nell'epica, ha una funzione molto importante. Bisogna dire che in effetti soprattutto Mea fa tutta una filastrocca quando si rivolge al cane praticamente, al cane di pezza peraltro, è come per esprimere tutto il suo disagio, no? Però era tutta in rima, quindi io l'ho dovuta ovviamente rendere in rima. Non è stato facilissimo, però non era neanche uno dei problemi più importanti. Era importante che ci fosse un certo ritmo oltre alle rime. Quindi alla fine la resa era stata questa, perché in svedese era letteralmente tu sì che stai bene, che sei un cane, eccetera, eccetera, ma sarebbe stato decisamente troppo spezzettato, quindi io alla fine sono andata su questa resa. «Beato te che sei cane e genitori non hai, beato te che sei figlio e coi genitori non stai, beato te che sei cane e sentimenti non hai, beato te che sei cane e ragionamenti non fai, beato te che sei cane e la volontà di altri seguirai, beato te che sei cane e delle scarpe di vetro reglate da papà niente te ne fai». Quest'ultimo verso in particolare esprime tutta la gelosia della bambina che sente che il padre è stato portato via da un'altra donna, perché tra l'altro il personaggio di Glauce che non compare mai attivamente ma è, come dire, ai margini, ai margini della scena, è quello che mette più in crisi Mia, perché Mia da una parte odia sua madre per essersi lasciata scappare il padre, diciamo dall'altra parte odia la rivale perché è rivale anche in confronti, ecco. Quindi c'è questa un po' questa funzione magica. Poi c'è sempre Mia è la protagonista di un'altra filastrocca verso la fine, quella che praticamente Mia in questa tragedia prende il coraggio di dire a suo padre di andarsene finalmente e quindi di risolvere alla fine la situazione tragica e gli dice su Giasone vola e vai dall'amica che tu sai, dille che la salutiamo e non la dimentichiamo. C'è anche questa specie di riconciliazione finale con Glauce. Invece Gias, e questo è stato veramente un problema perché ho cercato di capire come rendere questa cosa molto strana, Gias dice solo una formula molto strana ed è, anzi veramente ne dice due. Una è la prima all'inizio della tragedia che si inventa un posto che non esiste, che è un posto ideale dove praticamente tutti potrebbero andare e stare tutti insieme in armonia, compresa Glauce, che è questo posto che in svedese si intitola, si chiama Bombero Grotturotelt, che poi ho reso con bombe, grotte e tende, tutto attaccato ed è l'oggetto praticamente del litigio con Mia perché Mary dice non esiste questo posto e lui fa finta che esiste. Poi dopo l'accusa di averlo rivelato agli adulti perché se si rivela agli adulti questo posto assolutamente cessa di esistere, quindi è tutta una cosa molto complicata, ma soprattutto verso la fine dice buonanotte, alla fine l'ho reso così, buonanotte sogna pagnotte svegliati con un topo in bocca, che è una formula stranissima, che all'inizio quando l'avevo trovata ero convinta che fosse una specie di scioglidingo o di formula così scherzosa che si usava in Svezia, invece no, alla fine diciamo che dopo questa tragedia da qualche parte compare, ma perché viene... citato lui, quindi è una cosa assolutamente... e questa sono convinta, è una delle cose che si devono essere inventati i bambini nelle classi, nei momenti in cui lavoravano insieme perché è una classica, come dire, una classica trovata o invenzione di bambini che quando lasciano andare liberamente la fantasia si inventano di tutto e l'assonanza, l'assonanza o la rima per loro è sempre molto importante, quindi trovo anche coraggioso da parte di Susanne e per averlo inserito in questo testo, perché è una cosa che non ha nessun senso, però ha senso perché hanno saputo cogliere qualcosa che i bambini hanno voluto tirar fuori e hanno voluto che fosse nel testo, ecco. Sì, infatti è come un'invettiva fanciullesca, no? Cioè, è vero, anche io ho pensato che questa è una di quelle frasi scritte dai bambini. Noi siamo a pochissimi minuti dalla fine, ma possiamo ancora prenderci qualche minuto, perché in realtà voi avete fatto un lavoro che credo possa essere paragonabile al lavoro del dramaturge, siete entrati all'interno del testo e ne avete anche esplorato le intenzioni, avete esplorato le intenzioni dei personaggi per poter tradurre attentamente, cioè quello che ci raccontate ci dimostra un lavoro che è stato attento alla messa in scena. E quindi vi farò una domanda che in teoria dovrebbe, come dire, è una domanda che pertiene più a chi questo testo, spero, vorrà portarlo in scena. Ma secondo voi, questi diversi registri linguistici vengono colti dai bambini o, come dire, l'obiettivo è anche quello di differenziarli in modo che, come dire, rimangano profondamente separati. Parlo della resa scenica, cioè se una volta che vanno in mano i bambini, di fronte ai bambini questi registri, come dire, riescono a raccontare anche quello che ci state raccontando voi adesso. Allora, provo a rispondere io, ma francamente non so, bisognerebbe veramente vederla in scena, questa piesta. Devo dire che da quello che ho letto in giro su internet, le reazioni, e lo diceva un pochino anche Susanna l'altra volta, le reazioni del pubblico sono, se si guarda i bambini, i bambini capiscono, ridono, ridono in alcuni punti, questa è una cosa che mi ha colpito quando l'ha detto Susanna l'altra volta, gli adulti si scandalizzano, ma non si scandalizzano magari per le cose, cioè si scandalizzano perché hanno paura, si spaventano, perché l'istinto degli adulti è proteggere i bambini dalle cose brutte. Il pensiero dietro questa tragedia invece, da parte dei registri, è che i bambini hanno bisogno di questi, di vedere questa, di vedere sulla scena proprio certi meccanismi che gli fanno paura perché diventa un momento di purificazione, infatti non a caso lei parlava della catarsi aristotelica, insomma della funzione, della catarsi proprio, della tragedia dal punto di vista della catarsi. Credo che molti bambini riderebbero in certi punti, probabilmente si preoccuperebbero anche in altri, però probabilmente le reazioni più forti sono quelle degli adulti, paradossalmente, invece che dei bambini. Questa è la mia impressione da quello che ho visto anche perché in Svezia sono state contestate anche di recente delle messe in scena di questa tragedia, quindi vuol dire che gli adulti non sono così pronti ad accettarla. Non so, Federico, cosa ne pensi? Ma concordo in pieno con questo tuo intervento, penso che noi abbiamo lavorato anche in tal senso, nella misura in cui le scelte anche sono state preparate da una discussione, ma penso rendano poi pronto anche il pubblico a discutere di questa tragedia. Quindi ritengo che tutto il lavoro che abbiamo fatto sia intanto anche rivolto alla messa in scena. Cioè noi in più occasioni, penso all'episodio depressione, per esempio, in cui per esempio mi viene in mente, noi abbiamo scelto, traducendo il greco, di mettere bene in evidenza anche, oltre che la tensione del monologo di Medea nella fase più disperata dell'abbandono, anche nel rancore che lei esprime, che viene tradotto per l'appunto da nutrice per i bambini, una forte presenza teatrale anche tramite alcuni deittici. Noi abbiamo proprio voluto, secondo me per certi aspetti, renderla affinché un regista poi ci possa lavorare anche in modo laboratoriale, volendo come nello spirito di questa pièce. Penso in particolare in questo tratto a una discussione che c'è stata tra noi, perché se ce lo avete sotto, dopo il primo monologo in cui Medea si dispera, la nutrice traduce per i bambini, no? Bambini miei, la mamma è agitata, di cuore rabbia. Io qui inizialmente avevo tradotto, devo dire, male, ma ingannato dal greco che ha achinei, proprio come verbo del movimento, dell'agitazione anche, e poi due accusativi, il cuore, cradian, e poi il rancore, no? Colon, e avevo tradotto utilizzando rancore. Ed effettivamente poi con Laura ne abbiamo discusso e abbiamo scelto insieme di abbassare il registro in questo caso, e quindi secondo me questa scelta si agita di cuore, di rabbia, con questa formula secondo me molto comprensibile per i bambini, secondo me, anche questa scelta di tradurre così determina, no? Per certi aspetti ed evidenzia, no? Le nostre intenzioni sul testo. E in secondo luogo, su un fatto con cui vorrei concludere proprio sul linguaggio, sulla comprensibilità delle scelte e sul fatto che possa essere utile anche una riflessione ex post, no? Sui temi e tramite il linguaggio, per chi ascolterà e vedrà questa pièce, che ripeto, io non vedo proprio l'ora di vedere, nel senso che sarebbe proprio bello, è quello che leggeva all'inizio Federica, in particolare la conclusione e il litigio, no? L'episodio del litigio, e c'è in particolare alla fine un termine che forse qualcuno sarà saltato all'orecchio, no? Che è molto desueto, perché Medea dice bellonta per uno fresco di matrimonio, i suoi figli e io, io che l'ho salvato, all'avventura come Pitocchi in giro, bleh. E poi c'è questo commento, no? Infantile, no? Di fastidio nei confronti di questa cosa. La scelta di Pitocchi è stata una scelta su cui abbiamo riflettuto che mi fa piacere anche sorridere, no? Riprendere, perché è la traduzione più aderente al greco di, dice, Paidas Ptokhus, del termine Ptokos. Ptokos è un termine che significa anche straccione, povero, poveraccio, proprio anche in senso un po' dispregiativo, ma che deriva dal verbo Ptosso, stessa radice anche di Ptesso, che è un verbo che indica, e qui concludo, il rannicchiarsi o lo starchinato e carponi quasi, del mendicante, ma anche di chi ha paura e sta in un cantuccio, no? Magari in un angolo di una stanza. Ptokos, tradotto come Pitocco, oltre a restituire alla traduzione un termine desueto, secondo me restituisce un termine proprio perché è desueto, fonte di curiosità e anche imitazione mimetica da parte dei bambini, che lo possono tranquillamente inserire, che ne so, in un filastroco per prendere a male parole qualcuno non conoscendo del tutto il termine che usano. Ma in secondo luogo, secondo me, per un regista o per chi metterà in scena questa tragedia, anche come indicazione proprio quasi paratestuale di come mimare l'idea dell'andare in giro come Pitocchi di questa famigliola, anche perché il termine peraltro ritorna nell'edipo a Colono. Tragedia in cui c'è un padre accompagnato dai figli in giro cieco, dalle figlie. Questo è un po' quello che secondo me potrebbe fungere da stimolo per ulteriori dialoghi e per un dialogo anche con chi metterà in scena questa tragedia. Io vi ringrazio perché veramente per me è stata un'occasione di crescita sia la giornata di oggi sia il lavoro che abbiamo fatto insieme. Federica. Sono io che ringrazio voi, mi sembra che sia stato un incontro particolarmente ricco di riflessione sulla lingua e sul rapporto tra la lingua e la scena, che è poi il senso di questi incontri, Cira. Sì, devo dire che io confesso qui in diretta, davanti a chi ci segue, che era l'incontro che mi spaventava di più, perché insomma da teatrante, da buona teatrante ho detto Dio, io non so cosa dire, come affrontare un lavoro sulla traduzione. E invece devo dire che trattare il tema della traduzione su un testo teatrale, davvero un po' come dicevo prima, in un momento come questo è quello che ci permetterebbe, ci permette di far viaggiare il teatro, anche da fermi, in questo mondo in cui i viaggi li dobbiamo fare dietro alla nostra scrivania. Ma soprattutto io credo che ci abbia offerto anche la misura di quanto un lavoro sulla lingua approfondito possa essere in realtà un lavoro funzionale alle messe in scena. Io continuo a sostenere che il lavoro che hanno fatto Laura e Federico è un lavoro di dramaturg, sono andati a leggere dentro le intenzioni del testo, sono andati a immaginare le azioni e addirittura hanno, come nel caso, appunto, ultimo che ci faceva Federico, immaginato anche un possibile sviluppo immaginativo da parte del fruttore. E questo, secondo me, è veramente un esempio straordinario del lavoro che si può fare su un testo teatrale e di come questo tipo di approccio, che in qualche modo stiamo cercando di costruire con questa serie di incontri possa essere un tipo di approccio che ci aiuta come teatro a divulgare ancora di più la cultura teatrale nel mondo della scuola, ma non solo. Ecco, quindi io devo dire che vi devo ringraziare davvero tanto per questo incontro, per la qualità del nostro lavoro e davvero spero che sia solo la prima di una lunga serie di collaborazioni e poi speriamo che qualche compagnia venga voglia di mettere in scena questo testo, perché ormai Federico lo vogliamo vedere tutti in scena, questo sicuramente nel corso di questi incontri ormai ci sta venendo questa voglia a tutti. Quindi vi ringrazio. Ringrazio Lucia che è rimasta appunto in regia. Non so se ci sono delle domande dal pubblico, se vogliamo invece... Ci sono stati dei commenti che abbiamo letto. Ah, come è stato eluso il tema tragico dell'uccisione dei bambini? È una curiosità proprio sulla trama del testo. Di questo ne avevamo parlato con Susan la settimana scorsa, non so se Laura o Federica vogliono riassumerla brevemente. Laura. Vai Federica, vai, vai. No, d'accordo, sì. L'uccisione dei bambini avviene in sogno, avviene in un sogno. I bambini sognano di essere uccisi e dopodiché la tragedia finisce senza che vengano uccisi, cioè si separano Medea e Giasone e non sappiamo quello che avverrà dopo, almeno io mi sono detta questo leggendola. Susan ci ha detto l'altra volta che i bambini invece non vengono uccisi, quindi che hanno scelto di finire in un altro modo rispetto alla tragedia antica e di limitare l'uccisione al sogno dei bambini. Bene, se non ci sono altre domande noi vi salutiamo, vi ringraziamo per essere stati con noi e il prossimo incontro tra due giovedì entrerà veramente nei temi profondi di questa, entrerà nel tema caldo di questo testo che è appunto la separazione e le conseguenze delle separazioni nell'infanzia. Quindi insomma vi aspettiamo, come al solito io non mi ricordo la data, ma quindi... Il 27 aprile. Il 27 aprile, quindi ormai è un rito, ormai è diventato un pezzo questo e quindi vi aspettiamo il 27 aprile qui di nuovo con noi. Il 29 aprile in realtà. Ecco il 29. Ah il 29. Il 29 aprile, il giovedì 29 aprile. Grazie mille. Esatto. Grazie Laura e grazie per il rito davvero. Grazie. Grazie a voi. Grazie a tutti.